Ciao amiche e ciao amici, come riavvicinare un uomo che si sta allontanando da te? Se stai notando che il tuo uomo si allontana sia mentalmente sia fisicamente perché ad esempio non prova più tutta questa attrazione nei tuoi confronti, diminuisce diciamo così l'interesse sessuale, poi passa molto più tempo fuori da solo, uscendo con gli amici, insomma manifesta meno interesse nei tuoi confronti, noti che si sta allontanando. Beh, devi tenere presente questo, è tanto importante cogliere i primi segnali, non aspettare diciamo troppo per mettere in atto delle strategie di riavvicinamento. Quando noti che capita questo, la strategia migliore è un atteggiamento speculare, cioè la cosa più sbagliata è quella di inseguirlo soprattutto a livello logico dicendogli ma dove vai, ma cosa fai, ma esci sempre per i fatti tuoi, ma non sei più come una volta, ma anche qua non lo facciamo più, bla bla bla, perché fare tutte queste cose significa soltanto a dimostrarsi bisognosa, b dimostrarsi rompipalle e c non si ottiene comunque nessun risultato, perché se lui fa questa cosa è perché si sente trasportato a farla, non è il fatto che tu gli dici di non farla che lo convince. Certo, magari se diventi molto stressante, come dire, uno con la pistola puntata alla tempia, magari varia un pochettino i suoi comportamenti, ma di fatto comunque poi ritornerà di nuovo a rifare le stesse cose. Quindi se si sta allontanando da te devi mettere in atto delle strategie per farlo riavvicinare. Quindi il comportamento migliore, dicevo, è quello di un comportamento speculare. Devi far vedere che anche tu comunque sei indipendente, uscire con le tue amiche, uscire comunque da sola, non dargli più riferimenti, sempre riferimenti, e fare qualche cambiamento nel tuo look, nel tuo make-up e nel tuo profumo. Il profumo, ad esempio, noi sappiamo che è un forte ancoraggio emozionale, perché il profumo risponde al senso dell'olfatto che è uno dei sensi più antichi nell'essere umano, proprio a livello di evoluzione. Per cui, se tu cambi il profumo, dai un'immagine profonda diversa da te. Perché ormai, come dire, se lui si allontana e se si dimostra indifferente un po' nei tuoi confronti, significa che, diciamo, l'immagine che avevi ha perso il suo fashion, ha perso il suo appeal, ha perso il suo potenziale. Quindi devi ricambiare l'immagine, riproporti come una donna nuova, come un'immagine nuova. Quindi cambio di make-up, cambio di profumo, cambio di look, e il look deve essere, devi, come dire, tra virgolette, renderti un po' più sexy, imputtanirti un po', tra virgolette, insomma. Perché è di fondamentale importanza questo per destrutturare un po' la sua parte logica. In questo modo, quando lui penserà che tu ti stai allontanando, avrà, comunque sarà spinto, non tollererà, diciamo, questa cosa a livello razionale e a livello emotivo, invece, vivrà una forte emozione, per cui è molto probabile che automaticamente manifesti un riavvicinamento nei tuoi confronti verso di te. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e riceverai un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao! Ciao!